Paolo Sangrigoli, Presidente Provinciale del CONI, lei è abituato a lavorare con i giovani. Oggi parliamo di giovani e politica. I giovani hanno tanta voglia di sport, perché secondo lei hanno meno voglia di politica? Ma non è proprio così, però direi che ci vorrebbe un po' da parte delle istituzioni il coinvolgimento più pressante nei confronti dei giovani. Perché è chiaro che senza avere un'indicazione, senza avere un coinvolgimento molto importante, sono più tentati ad andare a passeggio o andare al bar piuttosto che interessarsi delle cose pubbliche, cose delle quali si devono interessare perché poi cresceranno anche loro e queste cose serviranno a loro e i loro figli. Perché secondo lei ai giovani la politica sembra così estranea? Ma perché anche da parte delle famiglie non c'è quell'interessamento da devolvere ai figli in maniera molto insistente. I genitori normalmente sono preoccupati del loro posto di lavoro, di portare a casa un discreto stipendio, e quindi i figli sono un po' lasciati crescere nel modo migliore con i loro amici, con il mondo della scuola e in alcuni casi anche con il mondo dello sport di cui io rappresento questo mondo. Non credo comunque che non ci sia la volontà da parte dei giovani di interessarsi di politica, devono essere solo più coinvolti. Se saranno più coinvolti ci sarà sicuramente molto materiale da poter portare nei prossimi anni alla finestra di tutto il mondo costituzionale. Grazie. Grazie.